Ok, quindi vi comunico ufficialmente che stiamo registrando la call, che così almeno sotto il profilo della privacy siete mie autorizzate, anche se sapete benissimo che a telecamera spenta cerchiamo di non mostrarvi nel video. E direi che possiamo partire con le tematiche della giornata. Anche questa settimana, come abbiamo fatto la settimana passata, divideremo la nostra call in due grandi parti. Una parte è metodologica, dove andiamo a sviscerare il dettaglio, le prime due tappe di cui abbiamo iniziato a parlare come visione generale la settimana scorsa, per poi addentrarci su una parte un po' più tecnica, che riguarda fondamentalmente sia il regolamento, diciamo, la gestione di base di quello che è il modulo di nostra competenza, che è della pallavolo ovviamente. E questo è quanto, cerchiamo di addentrarci in maniera un pochino più densa, un pochino più concreta, cercando di portare degli esempi su quelle che sono le tappe dei settori giovanili. Quindi, come al solito, l'idea è quella di proporre una trasversalità. Quindi, in funzione di quelle che sono le vostre esperienze, cercate sempre di riportarle sul vostro campo, e se avete delle domande, ci sono molte persone che mi stanno chiedendo dei pareri, massima disponibilità nel cercare di diffugare dei dubbi, se ne avete, o comunque cercare delle strategie che possono essere applicabili a quelle che sono le vostre arti competenze. Logicamente facciamo dei discorsi generali, porterò degli esempi e vi mostrerò delle situazioni che fanno parte del mio mondo, del nostro mondo, quello della pallavolo, che però, in generale, soprattutto nelle prime fasce d'età, possono essere comunque trasversali, ecco, perché comunque, come abbiamo già accennato la passata settimana, e se qualcuno non avesse visto, non avesse, diciamo, già fruito del materiale, della call della passata settimana, andiamo di nuovo ad approfondire quella dell'idea dell'importanza, della maturazione, soprattutto delle abilità generali dei giovani atleti, prima di una specializzazione precoce, che anche sotto il profilo della ricerca scientifica, propone come assoluta metodologia elettiva, quella di poter prima condizionare, diciamo, la piattaforma, quindi il sistema nervoso centrale, per poi caricare in una seconda istanza quelle che sono le specializzazioni sport specifiche. Ok? Direi che abbiamo atteso ancora qualche minuto, penso che siamo qui in gran parte, quindi direi che passo alla mia presentazione, a condividere il mio schermo. Come al solito, datemi un riscontro, nel momento in cui partono le slide, che le vedete, così almeno siamo tutti allineati. Ok, vedete le slide, ragazzi? Qualcuno mi dà un punto? Sì. Perfetto, perfetto, benissimo. Ok, e allora partiamo da qui. Partiamo da un concetto come al solito generale, che è questo. Ok, che è questo qui. C'è differenza tra essere coach ed essere trainer. Nella nostra... Nell'uso comune di queste due parole, certe volte le sovrapponiamo, ma facciamo bene attenzione, perché hanno, soprattutto gli americani e gli inglesi, hanno grande attenzione nella scelta dei vocaboli, e la parola coach deriva dal francese, coachè, credo che si legga, non conosco il francese, che significa carrozza. Quindi, il trainer allena, il coach conduce. E che cosa significa in parole semplici? Con grande tranquillità, grande semplicità, possiamo dire che quando noi abbiamo un gruppo di cui siamo responsabili, dobbiamo essere in grado di vedere complessivamente il percorso. Dobbiamo essere in grado di capire dove stiamo andando. Quindi, dobbiamo condurre il nostro gruppo, i nostri atleti, il nostro gruppo squadra, da un punto A a un punto B. Non basta applicare quello che è l'esercizio, la metodologia del giorno, perché, da quel punto di vista lì, oggi, o non so cosa fare, o voglio fare qualcosa di diverso. Assolutamente errato. Avere chiaro in testa qual è il progetto, è fondamentale se vogliamo fare i professionisti veri, seri, concreti, competenti, e assolutamente differenziarci da quello che è la stragrande maggioranza del mercato. Ok? Tutti quanti cercano soluzioni, diciamo, fast, noi dobbiamo essere strutturati, percorsi, itinerari, avere idea di dove stiamo andando. Chi è sotto la nostra responsabilità, focalizzerà massima, massima, massimalmente, si dice, non lo so, la sua attenzione su quella che è l'esercitazione del momento. Ma noi dobbiamo vedere quell'esercitazione all'interno di un panorama più ampio che si instaura nella direzione che vogliamo intraprendere, siamo certi che quella direzione ci porterà al risultato che vogliamo ottenere. e per fare questo ci vogliono competenze, ci vuole visione, ci vuole studio, però bisogna essere poi anche, ripeto, capaci di allargare il frame time di applicazione. Quindi, non è soltanto l'allenamento da preparare, ma è da preparare un itinerario, sapere, tappa per tappa, cosa vogliamo fare. è come se fossimo davanti a un puzzle. I nostri atleti hanno in mano un unico pezzettino del puzzle e si concentra unicamente su quel pezzettino lì. Noi però il puzzle dobbiamo averlo tutto davanti e sapere che quello è un tassellino da inserire in quello che è il nostro percorso generale. Noi dobbiamo condurre persone. Questo è fondamentale. Questo è un concetto generale, ma assolutamente fondamentale da applicare a quello che qualsivoglia campo, inteso ovviamente inerente, sì, qualsivoglia campo, ma in particolare per noi qualsivoglia attività motoria, attività sportiva. Quindi, ritorniamo a quella che era già la slide della passata settimana e ritorniamo alla nostra divisione della vita sportiva nelle cinque tappe fondamentali di un'età giovanile con quelli che sono i main target, quindi la scoperta, la capacità decisionale, la specificità atletica, la maestria sportiva e poi il consolidamento. Questa l'avete già vista la passata settimana e l'abbiamo scorsa la passata settimana a sommi capi. Oggi facciamo un focus un pochino più puntuale su queste prime due aree di interesse. La prima come abbiamo già detto la settimana scorsa vede un nostro intervento in maniera assolutamente tardiva. La cosa principale noi normalmente si inizia a intervenire tra i 4 e i 6 anni difficilmente prima ma già alla seconda abbiamo già un grosso carico di lavoro e un grosso carico di responsabilità nei confronti dei nostri piccoli allenati. E quindi iniziando a parlare della fascia da 0 a 6 anni siamo perfettamente allineati sull'idea della scoperta. E in questa tappa i target sono molto chiari quindi dobbiamo lasciare libertà di sperimentare e di esplorare il corpo. I ragazzini i bimbi devono essere stimolati ad avere il più ampio panorama di stimoli motori e diciamo generali assolutamente finalizzati unicamente alla presa di coscienza del corpo durante tutta la la fascia dai 0 ai 6 anni. L'ultimo punto quando dico non fare danni significa esattamente quello di lasciare liberi i ragazzi i bimbi in questo caso di fare le loro esperienze di fare quello che desiderano fare con il loro colpo di far sì che menti assolutamente non condizionate dalle esperienze possano immaginare e provare a fare tutto tutto quello che gli passa per la testa è da lì che inizieranno a costruire i loro primi schemi motori alcune cose verranno indotte già in fase di fatto genitoriale in famiglia vengono fatte l'apprendimento del camminare dell'arrampicarsi del gattonare la necessità di muoversi nello spazio porterà il neonato il piccolo a cercare il suo modo e se guardate dei neonati gattonare gattonano in maniera differente c'è qualcuno che va a quattro zampe c'è qualcuno che si muove spostandosi sulle mani a gambe incrociate non importa lasciamo fare l'esperienza libera facciamo fare quello che vogliono io ho avuto la fortuna di molti anni fa ormai di lavorare con dei bambini dell'asilo nido in piscina ed è incredibile quelli che sono poi tutte le paranoie nostre distruttori all'inizio nei confronti dei bambini che non avendo alcuna esperienza in merito sono liberi a qualsiasi tipo di possibilità apprendono ovviamente in un ambiente acquatico che l'acqua non succede niente se l'acqua va sugli occhi prendono l'acqua in bocca e la sputano tante piccole esperienze che sono semplici che per noi magari sono ovvie perché noi abbiamo un'esperienza un trattato una storia sportiva una storia generale prima di essere sportiva che per loro invece sono tutte cose nuove questo è il motivo per cui quando se qualcuno di voi scia vede i bambini degli sci club piccolini che vanno giù come dei pazzi per le discese senza alcun tipo di remora questo avviene proprio perché nella loro tersta non esiste la possibilità di farsi male e quindi logicamente noi nella gestione di questi giovani atleti di questi giovanissimi noi dobbiamo l'unico vincolo che dobbiamo porre è quello della sicurezza basta finito tutto il resto è valido tutto il resto è una un ottimo punto di partenza su cui puoi andare a instaurare nuove competenze in un secondo momento quando il sistema nervoso centrale sarà più sviluppato e potrà stabilizzare nuove competenze che saranno sempre più centrali rispetto a quello che poi il compito motorio che dovremo andare a svolgere durante la nostra attività sportiva questo è ovvio però noi soprattutto dobbiamo ottenere la freschezza la brillantezza intendo dire brillantezza mentale l'apertura di queste giovani menti assolutamente intonse delle pagine bianche e lasciare che da sole si impressionino con quello che l'ambiente gli propone come stimoli che loro stessi interna finito questo è il nostro compito noi interveniamo normalmente in fase tardiva 5-6 anni non prima 4 anni proprio in via estremamente precoce ma iniziare già da lì ad andare a indirizzare su una specifica attività motoria sportiva è assolutamente inadeguato è assolutamente vincolante ok quindi rischiamo come abbiamo visto anche l'altra volta che l'attività precoce porti sicuramente dei dei vantaggi nel breve periodo ma nel lungo periodo penalizzi il potenziale del giovane ok questa parte è abbastanza ovvia però è sempre meglio ricordarla iniziamo ad adentrarci in quella che invece è una fascia d'età un po' più interessante che comunque già in generale viene viene catalogata come fascia sensibile no però poi in realtà ci teniamo sempre abbastanza sul vago su quelle che sono le idee parlando unicamente come fascia sensibile da caratterizzare sotto il profilo coordinativo però in realtà poi abbiamo dei target ben precisi da dover sviluppare all'interno e soprattutto abbiamo un ordine di priorità e la prima cosa da fare in una fascia da 6 a 11 anni è stimolare la capacità decisionare qui strutturiamo la capacità di analisi dei nostri futuri atleti qui strutturiamo la capacità di applicare quelli che saranno i fondamentali nei confronti dell'ambiente nei confronti della squadra dei compagni di squadra degli avversari nei confronti delle situazioni che poi il futuro atleta dovrà affrontare qui sviluppa la capacità di decidere qui incominciamo con una consapevolezza di un regolamento quindi abbiamo il compito di stimolare la capacità decisionale ma iniziando a mettere dei paletti a dire che ci sono delle regole regole di base da seguire gli stimoli sono variegati instaurare una sana competizione prima tra i singoli e poi una competizione di squadra che andrà a sviluppare le prime strategie quindi cosa succede già da qui i piccoli i gruppi i giovani gruppi incominciano a essere autonomi nella loro decisionalità strategica per cercare di competere contro un gruppo avversario ora questi punti diventano focali quando parliamo di sport abbiamo la necessità di avere almeno quello che viene definito il dual task cioè la capacità del cervello di fare due cose contemporaneamente qui arriva ancora qualcuno secondo voi cosa significa questa cosa qui cioè perché io quando faccio sport ho bisogno di tenere in testa almeno almeno due cose insieme qualcuno mi porta degli esempi anche in chat o microfono aprite pure parlate pure ragazzi buttarsi parlare darsi da fare perché qui sì dimmi ti ascolto vai forse perché durante poi il gesto sportivo ci possono essere delle variabili che non abbiamo calcolato e quindi l'adattamento alla nuova variabile costringe l'atleta ad avere una visione leggermente diversa da quella che si era prefissato sei già oltre sei già oltre sei già oltre più facile provare a ragionare in maniera più semplice ad esempio nel basket un bambino deve saper correre per leggere insieme questo può essere già un'idea assolutamente ed è già un ottimo esempio portiamolo invece a un livello leggermente superiore devo palleggiare e correre insieme e poi cosa devo fare? guardare dove stanno i compagni guardare dove stanno i compagni guardare dove stanno gli avversari guardare dove sta al canestro no? per dire per esempio e ovviamente collimato al livello degli atleti questa esigenza viene sempre più esaltata più si va verso l'alto livello più le reazioni devono essere repentine in ogni caso si parla sempre di almeno due al task perché? perché scegliete voi scegliete voi sport situazionale ovviamente ma poi in realtà se vogliamo possiamo anche ragionarci sopra dopo sugli sport ciclici nello sport situazionale cosa succede? normalmente ho almeno un fondamentale da eseguire in un frangente di gioco devo almeno scegliere il fondamentale come applicarlo in quel determinato frangente siamo d'accordo? cioè non è che basta saper fare il fondamentale devo essere in grado di applicarlo all'interno di un compartimento tecnico-tattico perché se no decade quello che abbiamo già visto in precedenza sulla didattica la disponibilità variabile del fondamentale stesso siamo d'accordo? e invece se ragioniamo su uno sport ciclico provate a ragionarci dove potrebbe essere un esempio di dual task in una gara di nuoto ciclismo corsa portatemi degli esempi ragionateci magari c'è qualcuno che compete in qualcuna di quelle o comunque in uno sport singolo non necessariamente di situazione che può darmi magari più vicino vai ecco vai non lo so io parlo nel mio sport magari il remo che va sotto e imbarca e rovina la traiettoria o tu sei andato veramente molto nel dettaglio proprio specifico più facile quando avevi da quando hai cominciato a far canottaggio? poco immagina i bimbi che lo fanno non lo so a che età insomma diciamo in un'età diciamo età media elementari che fanno una garetta che cosa fanno? semplicemente guardano gli avversari guardano gli avversari guardano gli avversari accelereranno rallenteranno cercheranno di vestirsi no? dual tasks cioè applicano il fondamentale tu sei super sei più fine perché perché tu gestisci anche già siamo su un livello più alto tu fai quella cosa in automatico hai la visione periferica dove sono i tuoi avversari e alla stessa maniera cerchi di essere tecnicamente preciso per indirizzare in maniera più puntuale più robusta più sicura la tua traiettoria in maniera da avere un'azione propulsiva più efficiente possibile si capisci che è già un livello sopra vuol dire che tu hai già il fondamentale stabile gestisci il fondamentale stai guardando intorno e ti ascolti dici forse ho bisogno di prendere un po' più acqua un po' meno acqua capito? si è già un livello ulteriormente superiore tu hai già un livello ovviamente perché comunque tu sei un atleta diciamo di livello senior ormai e quindi hai quella quella competenza lì però un pochino più indietro già l'idea di gara guardo è già dual task faccio una cosa e guardo cosa succede se la portiamo per esempio in altri sport che può essere il ciclismo hai un discorso di salita discesa capito? abbiamo già altri componenti che ne so cioè sto 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 li sto improvvisando li sto sparando però l'idea è sempre quella cioè capacità decisionale e saper far qualcosa la cosa giusta al momento giusto applicare il mio fondamentale nel frangente in cui mi viene richiesto e applicarlo nella maniera più efficiente possibile però non è una cosa che nasce da sola lo abbiamo visto in nella didattica quindi sulla sulla primissima lezione che abbiamo tenuto su quelle che sono i percorsi didattici per stimolare e inserire dei file precisi all'interno dei nostri computer però come ben sappiamo l'obiettivo è quello di avere una disponibilità variabile e se non sapete di cosa stiamo parlando datevi a vedere la prima call e e lì c'è tutto quanto però il punto è quello quando è che imparo a gestire più situazioni quindi ad arrivare a avere la mia testa pronta ad applicare in disponibilità variabile inizio a impiantare questo semino tra i 6 e gli 11 anni abbiamo una responsabilità questo è fondamentale se noi siamo consapevoli anche l'interpretazione dei nostri ruoli all'interno di quello che è il nostro frangente di la nostra diciamo area di influenza è fondamentale per andare a punzecchiare quel punticino per dare lo stimolo giusto nel momento giusto ai ragazzi e renderli più disponibili possibili a nelle tappe successive ad avere una base più solida su cui costruire le loro abilità le loro le loro maestrie sportive ok fondamentale quindi il target di questa diciamo di questa tappa è assolutamente andare a stimolare questi frangenti però non è solo questo ci sono tanti aspetti le parti coordinative queste cose che normalmente sono più come dire anche intuitive e più conosciute in generale credo che tutti quanti voi nella fascia sensibile sappiate che la la componente coordinativa ha una assoluta dominanza su quella condizionale assoluta non penso che ci sia questo da al secondo anno non credo che ci sia ancora questo dubbio però l'idea di essere precisi su questa componente decisionale diventerà assolutamente centrale è la prima cosa che ci fa fare la differenza perché andremo a stimolare in maniera corretta il sistema nervoso centrale che sarà più bravo più capace più pronto a far stabilizzare poi in una seconda istanza i gesti facendoli passare da una gestione corticale a una gestione subcorticale se non sapete di cosa stiamo parlando andate a vedere le altre settimane e ovviamente su una base più solida instaurare le abilità che poi ci renderanno più come dire capaci all'interno di quello del nostro sport specifico parlando sempre di questa fase qui ricordiamoci però che le regole restano sempre generali è vero sì che dobbiamo lavorare sulla capacità decisionale è vero che dobbiamo essere capaci di dare delle regole delle regole di base ma è altresì vero che dobbiamo variare gli stimoli no? Quindi il punto della variabilità resta sempre centrale e resta sempre indirizzato e focalizzato principalmente su quello che è l'incremento coordinativo e qui libero sfogo anche agli istruttori stessi quindi è qui che noi dobbiamo essere fantasiosi bravi capaci di fare delle proposte adeguate a quello che è il livello di competenza motoria dei nostri piccoli però diciamo sempre con un occhio periferico a quelle che sono i target quello del regolamento e quella della capacità decisionale in seconda istanza sulla competizione prima dei singoli e poi sulla competizione di squadra ricordiamoci sempre è la fascia dai 6 agli come ci siamo già detti la settimana scorsa non è che possiamo spaccare con l'accetta una fascia di età da un'età a un'altra da in funzione di quello che è il pregresso da 6 anni e un giorno allora sei nella seconda tappa e così via ci sono delle sfumature di grigio ci sono dei periodi precoci e ci sono dei periodi tardivi all'interno della tappa stessa noi sappiamo che all'interno di questo frame di tempo dobbiamo essere bravi a coprire questa serie di abilità al termine della delle di questa seconda tappa i giovani devono avere instaurato queste capacità devono essere in grado di sostenere queste problematiche devono essere in grado di risolverle ok però con le sfumature di grigio non possiamo pensare che un bimbo di 6 anni abbia la stessa capacità decisionale di un bimbo di 10 11 già cambia già cambia poi in più in mezzo a quelli non sono tutti uguali i bambini e lì la capacità artistica di cui spesso parliamo di cui abbiamo parlato nelle passate settimane da parte del tecnico e avere delle competenze però poi saperle trattare saperle inserire all'interno di quello che è poi il progetto specifico non generalizzato come ci siamo già anche detti anche in maniera non così diciamo esplicita ricordiamoci sempre che i bimbi perché di bimbi si tratta in questa età devono divertirsi devono divertirsi quindi dobbiamo essere capaci anche di comunicarle nella maniera giusta le cose parentesi la componente ludica è quella che fa andare avanti il sistema quindi loro all'interno del gioco noi all'interno loro pensano di giocare tassello del puzzle noi abbiamo tutto il percorso davanti e quel tassello del puzzle lì lo indirizziamo dove vogliamo tutte le skills che ci stiamo elencando ora vi mostrerei qualche qualche immagine di video di lavori che abbiamo messo insieme nelle passate settimane allora quello che vi mostro adesso sono delle ragazzine under sono dal 2009 al 2011 in questo in questo quindi sono centrali su questa su questa tappa in realtà poi diciamo sono variegate anche nelle loro abilità e nelle loro capacità e vi mostro quelli che sono alcuni stimoli variati che abbiamo proposto sia alcune cose un pochino più tecniche che riguardano la fase un pochino più tardiva della tappa partiamo di qua allora qui vabbè accendo solo un attimo il volone ah no così che no l'abbiamo fatto la gestione la gestione della ritmizzazione con delle variabili qui dovremmo sentite di base probabilmente la sentirete male però c'è una musica scelta tra l'altro da loro dove l'obiettivo è battere i piedi a tempo ma alla stessa tempo cercare di mantenere per aria il palloncino palloncino tenuto prima come vogliono poi solo con la mano destra poi solo con la mano sinistra poi camminando unicamente sulle righe poi una serie di variabili che io impostavo durante la l'esercitazione stessa in questo frangente ho dimezzato il tempo vedete che hanno rallentato la battuta dei piedi una serie di piccole variabili in cui gestiamo in una fase di riscaldamento generale gli stimoli in maniera diciamo semplice e facile proseguendo all'interno dell'esercitazione abbiamo iniziato per dire camminiamo camminiamo in cerchio cambia il giro solo mano destra solo mano sinistra adesso vedete fronte al centro situazioni di mezzo il passo molto semplicemente è all'interno di quello che è poi è un sistema di riutilizzazione pure semplice stimoli diversi portati un po' avanti stessa cosa fatto a colpo e col pallone qui il pallone rimbalza a ritmo di musica sotto c'è sempre la base e vedete che all'inizio sono io a comandare poi dopo in una seconda fase farò comandare loro però vedete che imparano il ritmo la ritmizzazione gestendo anche la capacità di spingere il pallone spingere il pallone a ritmo spingere il pallone e cambiare il ritmo in funzione di quello che è il mio compito di mezzo il tempo insomma penso che abbiate capito qual è il trend della situazione qui iniziamo a camminare da questa posizione qui ci sarà poi un momento in cui incomincio a far partire loro qui abbiamo sbagliato e ricominciamo qui comando io do io il punto di partenza e loro iniziano a seguirmi c'è qualcuno che vedete è più puntuale qualcuno che è meno puntuale però piano piano tutte quante riescono abbastanza bene ad allinearsi in maniera più o meno precisa però iniziano a prendere un po' di coscienza qui faccio partire loro parte la bimba vedete qui è sbaglio poi riparte ascolta la sua musichina e clamorosamente prende il tempo quindi insomma qualche piccola qualche piccolo riscontro anche in termini di diciamo di semplice apprendimento di base su schemi di ritmizzazione basic durante la fase di riscaldamento danno anche subito dei riscontri perché comunque le bambine riescono a sostenerle parliamo di bimbe abbastanza giovani ecco diciamo che come vi dicevo dal 2008 al 2011 andando su quest'altra parte qui abbiamo iniziato a fare una parte più spaziale gestire lo spazio del campo da gioco come vi dicevo con stimoli diversi molto semplicemente l'invito a coprire tutto il campo prima vedete anche qualcuno si sbaglia proprio sul fondamentale che batte a terra perché si distraggono un po' però intanto guardate cosa fanno con la testa cercano di guardare dove io gli impongo di mettere i piedi o solo sul legno o soltanto sulle righe variabili diciamo così random che però comunque danno delle prime stimolazioni di quelle che sono visione periferica gestione dual tasks capacità di decidere le cose sui generis di cui abbiamo diciamo abbastanza parlato altra fase di indipendenza totalmente come vedete lontana da quello che è il modello di prestazione delle della pallavolo chi se ne frega no? però il lavoro è molto semplicemente fai girare il cerchio scusate il cambio di inquadratura fai girare il cerchio con il braccio e tieni il palloncino per aria molto banale però intanto i bimbi devono diciamo esercitare quella che la capacità di indipendenza indipendenza arti differenti differenza motorio generale che in parte è stata anche stimolata sulla parte di ritimizzazione che abbiamo visto precedentemente ok qua ferma tutto e andiamo alla parte successiva qui invece semplice lavoro prendiamolo quello che stiamo per vedere adesso è un semplicissimo percorsino banalissimo però voglio ve lo mostro sotto due punti di vista e ve lo commento in maniera che capiate quello che ci sta dietro cioè una cosa così l'avrete visto un milione di volte però un discorso è farlo in maniera consapevole all'interno di un percorso e un discorso è camparla lì e poi vi darò l'ultimo dettaglio quello che è quello che diciamo più mi interessa che voi possiate capire perché in certi frangenti noi siamo quasi quasi spaventati a dover cercare tra virgolette il colpo ad effetto per andare a cercare lo stimolo di questa capacità decisionale che adesso abbiamo capito che bisogna inserire allora chissà cosa bisogna fare adesso vi mostro questa cosa che è banalissima però capirete cosa intendo quando dico capacità decisionale a questa età allora intanto molto semplicemente percorsino banale passano sopra la loro buona cosa l'obiettivo era quello di andare dalla diciamo dalla lunetta a tirare a canestro allora vi posso dire che noi quando vabbè a parte che intanto vi apro un attimo l'audio così vi rendete conto che cosa succede in questo momento molto banalmente in una situazione di una ripeto un percorsino assolutamente banale abbiamo già subito quella che la scelta di alcuni a loro discrezione di alcuni frangenti il compito era il plinto che vi sto indicando avrebbero scelto loro se saltarci sopra o camminarci sopra in funzione di quello che era il loro livello logicamente se ci salto sopra faccio prima è una gara di velocità però la scelta è loro vanno avanti questi i balzi sono stati variati in funzione delle varie cose ma assolutamente una parte banale lancio sopra la rete e discriminazione cilestesica per applicare la forza giusta per passare oltre ma anche qui altresì banale un minimo di equilibrio dinamico altrettanto banale l'unica cosa che abbiamo detto sul punto di vista finale cioè quella del nel momento in cui lanciano la la palla nel cestone era quello di tirare oltre diciamo la lunetta lasciamo stare che alcune pestano però in primo nel primo momento in cui abbiamo lasciato libertà loro hanno iniziato a tirare esattamente da adesso vi mostro il punto qui dal punto più lontano perché perché probabilmente nella loro testa quello era il punto più centrale dandogli soltanto l'input ricordandole alle bimbe di dire ragazzi ricordatevi che potete tirare lungo tutto l'arco ovviamente da più distante era più difficile fare canestro ricordandogli soltanto con l'appuntino del cambiare quella situazione tattica loro piano piano hanno iniziato a trovarsi da sole la strategia di andare sull'angolino che era soddisfava la mia regola però avvicinava lo spazio al canestro banalissimo banalissimo invece di dire vei lì e tira scegli il punto da dove tirare sceglitelo tu sceglitelo tu questo è un semplice stimolo di capacità decisionale molto facile ricordatevi poi vabbè come avete visto avete più che altro sentito già queste stupidaggini possiamo dire stupidaggini non lo so banalità sotto il profilo diciamo dei giochini di staffette creano comunque il primo status di agonismo voglia di vincere addirittura succedeva dopo un po' queste cose avvengono dopo un po' di volte perché logicamente pure loro devono capire un po' il processo dopo un po' di volte intendo dire minuti non ore non volte diciamo allenamenti minuti facevano partire le ragazzine diciamo quelle un pochino più dotate prima in maniera da far fare più giri perché si andava a tempo l'hanno fatto da sole piccole forme di strategia piccole forme di agonismo piccole forme di capacità decisionale che però se noi non conosciamo in maniera puntuale precisa dettagliata rischiamo di lasciare indietro o perlomeno di non di non gestire in maniera consapevole di non stimolare in maniera consapevole noi sappiamo che il punto è far sviluppare capacità decisionale alle nostre giovani leve ok questo è proprio la base ultima cosa ultimo aspetto fondamentale ricordatevi sempre un altro esempio che abbiamo fatto non ho il video però un altro esempio di capacità decisionale messa in in campo abbiamo messo per terra nove cerchi ogni squadra correva a staffetto su questi nove cerchi e giocavano semplicemente a tris con i loro cinesini cioè arrivavano davanti ai loro cerchi e dovevano decidere dove mettere il il cinesino che ogni 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 micro diciamo un micro squadra aveva giocavano a tris e quindi dovevano sia essere capaci di arrivare lì in maniera rapida decidere dove mettere la loro fish e capire se potevano rischiare per cercare di vincere oppure dovevano bloccare gli avversari robe banalissime che però le fanno pensare questo è l'obiettivo e soprattutto vi ricordo l'ultima cosa importante puntuale e che devono essere più tu fai una situazione diciamo l'avete visto anche nelle nei video precedenti più la situazione coordinativamente è complessa più non posso pretendere che il ritmo sia alto e logicamente ci deve essere balance inteso come ci devono essere dei momenti in cui si sfogano corrano si divertano facciano casino le lascia urlare le lascia sistemare a dei momenti in cui devono essere più concentrate e gestire delle posizioni coordinative e da questo mix costruito in maniera consapevole dal tecnico facciamo solo del bene facciamo solo del bene ho fatto ho preso soltanto un paio di esempi però per dirvi abbiamo fatto dei lavori di discriminazione cinestesica con tanti tipi di palloni quindi molto semplicemente un pallone da basket un pallone da pallavolo la swissball e una pallina da tennis e divise in gruppi da tre lanciavano il pallone il pallone rimbalzava il muro che arrivava la compagna dietro che si rimetteva dietro e si dovevano adattare al peso del pallone molto semplicemente a distanza cercare di lanciare dentro al cerchio a coppie il pallone di dimensioni pesi diversi logicamente sempre alternando lavori di tipo coordinativo un pochino più lenti e più compassati e dei lavori un pochino più dinamici e che le facciano un po' divertire sfogare e vadano a stimolare anche agonismo strategia capacità decisionale ok quindi il concetto non è che mi preme che passi non è che è l'esercizio che fa la differenza ma è l'idea che sottende a quell'esercitazione che fa la differenza è l'idea che dà poi la capacità di vedere un quadro di insieme degli stimoli quando strutturate il vostro allenamento pensate a che cosa stai allenando parti sempre da che cosa vuoi allenare e poi inserisci e poi inserisci l'esercitazione prima parto da quella che è la competenza che io voglio andare a sviluppare fondamentale parliamo ancora un attimino dei parametri di gestione della metodologia vedete questo allora il 100% è inteso come la totalità del tempo la modalità il 100% quindi 60 più 40% parliamo del 100% della totalità della seduta di allenamento e qui abbiamo dei parametri che possono esserci di aiuto sulla gestione della seduta in complessivo quindi diciamo che vedete che più ci si avanza nell'età e più ci si avvicina alla componente diciamo di tipo chiamiamolo specifico una parola un po' forte però sicuramente diciamo che abbiamo una parte motoria generale che in percentile si riduce alla crescita degli anni per avvicinarsi sempre di più a quelle che sono le esigenze dell'attività motoria specifica mettiamola così quindi nel senso andremo più a focalizzarci non tanto sul discorso degli esercizi sui fondamentali e così via ma su quelle che possono essere le capacità che vengono chiamate in causa sullo sport specifico e qui abbiamo un riassuntino dove quello che ci siamo già detti dall'inizio in questa tappa abbiamo un obiettivo principale un main rock che è la capacità decisionale cioè far pensare le nostre giovani leve abbiamo un obiettivo secondario che ci induce a quello che è un diciamo un pattern di regole da applicare sull'agonismo che è un po' coerente non sul discorso decisionale cioè il discorso decisionale viene chiamato in casa quando? Quando competiamo e per assolvere a queste due principali esigenze ma anche all'esigenza di avere variabilità di avere una copertura di stimoli importante del tipo coordinativo troviamo come metodo elettivo il percorsino quindi le staffette come abbiamo visto nella slide precedente all'interno della seduta questa parte occuperà questo percentile in funzione dell'età in funzione del grado anche di preparazione in funzione anche del background del mio gruppetto di giovani bimbi e bimbe e poi abbiamo una variabilità di stimolazioni che dovrebbe essere intorno al 15% inteso come cambiamo all'interno delle nostre sedute nel nostro percorso un 15% di stimolazioni di volta in volta questo perché perché abbiamo sì bisogno di variabilità ma abbiamo bisogno anche di stabilizzare quindi sì dobbiamo fare tante più quante cose possibili più stimoli possibili però deve essere un percorso organizzato e il percorso organizzato come lo posso valutare lo valuto se riusciamo a fare meglio quello che prima ci riusciva peggio fondamentale quindi sì cambiare però non stravolgere sì cercare nuovi tagli delle nostre esercitazioni ma senza drasticamente cambiare il percorso il percorso deve essere proprio step by step step by step all'interno di quello che può essere il focus però sempre lì sempre lì precisi a cambiare un piccolo passettino che però a medio termine ci fa stabilizzare quindi ci fa cambiare tra aggiustamento e adattamento che abbiamo accennato la passata settimana come termini e quando raggiungiamo l'adattamento portarci a uno step di prestazione se vogliamo chiamarla così uno step di consapevolezza motoria superiore questo è quanto preciso puntuale e tu quando parti da questo quando tu hai ben chiaro questo tu sai già hai uno schema preciso dove inserire poi le tue esercitazioni e quando hai inserito l'esercitazione verifichi se ci sono le spunte dei punti che sono di tuo interesse e cambia e cambia che non far fare degli esercizi per diciamo in maniera disgiunta senza avere un filo conduttore dietro perché purtroppo se vogliamo allenare dobbiamo poter avere una strategia dobbiamo sapere dove andare dobbiamo essere dei coach dobbiamo sapere assolutamente e garantire che l'adattamento ci sarà perché le regole che metti in campo che applichi in maniera precisa e puntuale sono dimostrate dalla scienza non da capuzzo ok quindi se non ci sono problemi accessori per forza per forza arrivano gli adattamenti prima dopo precocemente tardivamente ci sarà chi sarà più recettivo ci sarà chi sarà un po' più indietro arrivano tutti da background diversi sicuramente però il nostro plus non sarà quello di tendere a portare tutti a fare le olimpiadi il nostro plus sarà quello di portare tutti a estrinsecare il loro potenziale che sarà quello che hanno non non tutti saranno degli atleti di serie A ma magari avranno l'opportunità di avere delle altre skills delle altre abilità che li indirizzeranno magari anche in altri sport non voglio dire ad arrivare ad un'eccellenza sportiva ma essere comunque capaci di togliersi delle soddisfazioni e soprattutto dal punto di vista nostro tecnico aver dato il massimo aver dato il miglior servizio che potevamo a questi giovani bimbi ok ultimo pezzetto di metodologia e poi sono a disposizione se ci sono delle domande questo poi lo vediamo più in profondità nelle prossime settimane però ci dà già un metodo di analisi il metodo di analisi che viene riportato con questo acronimo che dall'inglese significa punteggio per chi non lo sapesse ma penso tutti di voi tutti voi lo sappiate che richiama a queste semplici a questi semplici punti che ci devono far ragionare sulla nostra sulla nostra metodologia quindi situazione dove mi trovo che quali sono le competenze quali sono il punto ovviamente sotto il punto di vista fisico prettamente motorio del mio gruppo dove mi trovo a che punto sono sono precoce sono in ritardo rispetto alla tappa precedente quindi devo essere più capace ad andare a sviluppare l'agonismo o devo essere più capace a richiamare la capacità decisionale o le regole sono più diciamo avanzato e quindi possiamo andare a sviluppare la strategia in maniera più diciamo puntuale precisa e anche più difficile da gestire oppure devo semplificare e perché sono a questo livello quali sono le cause perché non ho strutturato al meglio l'allenamento perché il mio materiale umano non ha avuto la possibilità di sviluppare precedentemente delle abilità e quali sono gli obiettivi dove voglio andare qual è il punto che voglio raggiungere quando è che sarò soddisfatto quando è che cambio come faccio a oggettivare il raggiungimento di un nuovo status di prestazione motoria e quali sono le risorse che ho a disposizione inteso come siamo una persona che gestisce tanti bambini siamo uno a tanti o siamo due a un gruppo più ristretto o siamo uno a uno quindi un istruttore per ogni per ogni bimbo risorse sempre che materiale ho a disposizione che spazio ho a disposizione che cosa ho come interazione con l'ambiente posso sfruttarlo o non lo devo sfruttare o lo devo isolare e poi quali sono gli effetti quindi tutta questa pappardella di roba di analisi che effetti mi porta dove voglio andare raggiungo il target gli obiettivi verifico se sono migliorato o non sono migliorato questa cosa non lo fa lo fanno in pochi perché poi hanno paura di non raggiungere quello che era stato il target allora così ci teniamo sul vago così almeno abbiamo fatto qualcosa ma in realtà allenare significa decidere quando arriverà il miglioramento è così ovviamente non puoi decidere il giorno però il periodo lo devi decidere devi capire quanto tempo devi sapere devi sapere quando ci sarà l'adattamento se no non fare lo sport nello sport il tempismo è tutto non è che puoi andare in forma quando decidite devi essere in forma quando è ora e questo come si fa con metodo con programmazione e si parte nella stessa maniera con i bimbi ovviamente con molta con molta pressione da un punto di vista dei risultati però con la stessa puntigliosità se vuoi fare il professionista vero se no se vuoi fare il dopo lavorista che quando finisce di andare al mercato va in palestra lanciare i palloni è un metodo però eticamente non lo sposo sicuramente ha una sua valenza ludico-ricreativa nei confronti dei bimbi aggregativa nei confronti dei bimbi però non è non è il mio modo di approcciare l'attività almeno da tecnico ecco fatta questa analisi abbiamo un'ultima un ultimo punto da prendere in considerazione e beh questo ne abbiamo già parlato molto sinteticamente la passata la passata settimana quando abbiamo cercato di capire quelle che possono essere le priorità differente della squadra e dei singoli questa scelta quindi se mi indirizzo verso quello che è il modello di prestazione o sulla profilazione del singolo è assolutamente correlata a quante risorse ho quale situazione mi trovo perché perché se ho poche risorse e sono da solo dovrò allenarmi allenare in funzione di quello che è il modello di prestazione che cosa significa significa in un'età giovanile andare a sviluppare massivamente quello che è l'obiettivo primario della fascia d'età se invece parliamo di seniores quindi di attività sportiva evoluta il modello di prestazione sarà tutte le capacità che sono implicate all'interno di una performance di un dato livello quindi che cosa mi serve per vincere una partita di calcio di livello non lo so facciamo finta serie una promozione quali sono le capacità condizionali quali sono le capacità coordinative che cosa ho bisogno e mi rivolgo allo sport in questo caso quindi se ho poca possibilità di investire risorse la mia attenzione è rivolta a migliorare le capacità generali dello sport che è preso in indagine se invece ho tanta possibilità di variare e quindi cercare di trovare soluzioni più personalizzate nei confronti dei gruppi allora mi indirizzerò sulla prefilazione dei singoli cercando di andare a far migliorare quelli che sono i punti magari esaltare i punti diciamo deboli e celare i scusatemi esaltare i punti forti e celare i punti deboli in funzione di quelli che sono poi le richieste della gara quindi esaltare quelle che sono le componenti fondamentali poi della gara stessa e cercare di portarle a un grado più alto possibile per far prestare al meglio la squadra ma questa seconda parte ce la approfondiamo dalla prossima settimana ricordiamoci sempre l'ultima cosa che cose piccole fanno grandi differenze cose piccole fanno grandi differenze normalmente il 20% delle vostre scelte faranno l'80% dei vostri risultati quindi questo significa pensa bene a quelle priorità che devi avere se hai le priorità sei molto vicino ad ottenere il risultato che cerchi però devi avere delle priorità ben precise ben precise e se non hai quelle priorità lì diventa poi problematico sapete benissimo che avere un adattamento è difficile non è facile se non lo farebbero tutti sportivamente parlando sarebbero tutti fortissimi invece non è così avere un adattamento è una cosa difficile scegliere quello corretto e lavorarci sopra è l'unica vera responsabilità che abbiamo l'unica vera responsabilità che abbiamo scegliere la priorità esaltare quella priorità fa sì che noi diventiamo molto bravi ho detto un po' di cose domande dubbi perplessità idee voglio sentire un po' di voi dai ragionate già in questa direzione ci lavorate già su queste cose qui le sapevate già dai qualcuno di voi già allena quindi insomma parliamo da tecnici tra tecnici dormite già tutti ecco lo sapevo ma professore sì prima ci hai fatto vedere delle clip sulla capacità decisionale però un particolare connotato è che si è visto un allenamento però incentrato sul singolo non so se quando a che quale clip ti riferisci non so in particolare ho visto magari per esempio il primo video dove stavano in cerchio e dovevano cercare di appunto di tenere alto il palloncino o con la mano destra o con la mano sinistra percorrendo a modo di cerchio oppure liberamente verso la zona del campo e poi c'è però una cosa che appunto mi chiedevo è in particolare qua nella pallavolo come si sarebbe potuto allenare la capacità decisionale tenendo appunto nei gruppi cioè mettendoli in competizione cioè sì prima avevamo visto il percorso però magari ci tenevo a vedere o meno personalmente ci tenevo a vedere magari qualcosa di un po' più situazionale ecco ma che età hai io sì esattamente con l'età lì 8-9 anni e tu riusciresti a fargli fare qualcosa di più? cioè come decisionale? ma dice sempre nella pallavolo o ti prendi la pallavolo? no 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 io cioè alleno il calcio alleno il calcio e tu hai delle cioè tu riesci a farli integrare già tra di loro? non esattamente però per esempio cioè per quanto riguarda la capacità decisionale nel mio sport ho pensato magari non so di mettere due porticine magari di metterli non so fare dei due contro due e poi farli in un certo senso collaborare insieme per andare ad attaccare oppure difendere cioè non so io nel calcio parlerei banalmente in questo modo è molto difficile no? farli collaborare due con due ah sì sì certo cioè capisci che capito perché a questa età è più facile la competitività del singolo perché l'interazione tra due è già tu capisci che parliamo di dual task no? gestione di un fondamentale e gestione di una situazione se tu metti già un compagno di squadra è una variabile in più è un livello più difficile mi sono spiegato? sì sì cioè quindi è ovvio che l'obiettivo poi è cercare di farli interagire anche tra di loro però è molto semplice se tu già vincoli il il passaggio per dire no? la possibilità di interagire con un proprio compagno significa che tu sei già preciso nel passaggio e soprattutto non lo sbagli in maniera diciamo percentualmente accessibile perché là l'esercitazione avvenga tante volte siamo troppo complessi soprattutto se i gruppi il tuo gruppo è è tutto allineato nelle pensa al tuo gruppo è tutto allineato nelle nelle capacità nelle capacità coordinative gestioni tecniche del pallone ma dunque io facendo proprio un'analisi sul mio gruppo principalmente dico che ci sono quelli particolarmente portati ma non soltanto dal punto di vista coordinativo oppure condizionale ma anche dal punto di vista appunto del carattere che magari sono particolarmente svegli e che possono magari trovare nell'immediato l'idea giusta per per andare al goal ecco certo certo e però ci sono anche quelli che sono un pochino più tontarelli immagino vero? sì cioè nel senso è brutto detta così però è detta così no? cioè poi sono teneri e ci piacciono tutti no? però non è giusto neanche lasciarli indietro no? sì sì no quello anche io ho la stessa problematica ho delle delle giovani tra virgolette dei giovani fenomeni lasciami passare il termine perché fenomeni non sono però o poi c'è anche quelle che purelle magari sono cresciute di 3-4 centimetri in tre mesi e non si trovano i pezzi proprio cioè non fanno fatica proprio no? però io devo tenerle tutte e due lì a quelle età lì non è che posso dire ok tu cioè è come penso anche tu da tecnico dici ok sei più dotato però sei talmente giovane che chi ne so io se riesci a fare il giocatore no? siamo d'accordo? quindi a questo punto capisci che andare a esaltare o comunque a stimolare singolarmente arrivo e Marco ho letto la domanda dopo ti rispondo il andare a stimolare singolarmente permetterà a quelli che sono un pochino più bravi di continuare il loro percorso quindi lo faranno più velocemente no? lo faranno un ritmo superiore se tu fai fare un'esercitazione al singolo se tu vuoi fare una staffetta al tuo singolo no? c'è quello che è più sveglio che lo fa prima semplicemente no? lo fa prima lo risolve in maniera più puntuale più precisa e più brillante mentre il quello che è un pochino meno dotato farà più fatica però magari lo porta a casa lo stesso questo tipo di approccio ti permetterà di avere degli stimoli che siano allenanti per tutte e due quindi non rallenti chi è più bravo e dai lo stimolo giusto a chi è un po' meno meno bravino alzando il livello tecnico generale è logico che attendere dovremmo sia io con queste bimbe ma poi questo non è un gruppo mio è un gruppo su cui sono stato in interazione però avessi un gruppo mio è logico che attendere devo cercare delle soluzioni per farle collaborare in squadra però col tempo col tempo soprattutto l'obiettivo è iniziare a farli proprio in fase estremamente tardiva di questa tappa e poi indirizzarci nella tappa successiva in maniera di una forte interazione tra i tra i singoli ok ti ho risposto sì sì perfetto questo è un po' è un po' è un po' la visione poi logicamente bisognerebbe poi fare analisi specifica magari tu hai un gruppo molto precoce e bisogna bisogna fare no delle altre analisi più profondite sì esatto Marco la collaborazione il vostro compagno dice che giustamente non so di che sport si occupi comunque la collaborazione in giovane età è estremamente difficile e bisognerebbe assolutamente partire da delle esercitazioni molto basic e si parte dalle esercitazioni molto basic quindi con meno variabili possibili e più stabilizzati in maniera possibile su cose che conoscono su cose che conoscono però insomma non è attendere è ovvio che l'obiettivo è esattamente quello però bisogna dar del tempo a questi a questi giovani vergulti bisogna dar del tempo e dargli l'opportunità di crescere con calma di dare l'opportunità di noi giochi di potere cosa intendi Sara? io vengo da buongiorno io vengo dal basket noi ad esempio col mini basket facciamo tantissimo i giochi di potere sì è dove ci sono magari si fa squadre si fanno si formano quattro squadre dove c'è un bambino che se vince la mancia ha il potere e che ne so magari decide lui quando partire decide lui che canestro fare decide lui la mia molto bello molto bello ha quell'idea lì sì ho fatto delle cose così ci sono delle delle cosine che hanno il c'è una sorta di di è molto molto funzionale questa cosa bello assolutamente bello ed è assolutamente centrale molto stimolante anche sotto il profilo caratteriale cercare di di dare poi quella prima responsabilità lì di decidere sì no esatto poi ad esempio il bambino deve stare sempre attento perché se poi perde si perde eccetera i bambini della squadra gli dicono su no ma quindi deve essere sempre attento nel gioco e poi l'allenatore non deve fare niente non deve dare il via non deve deve solo guardare bello bello molto bello e soprattutto vabbè in più va proprio a a quanti anni hanno i tuoi bimbi? no io non alleno più però ma che li facevo con quelli di 6-8 anni anche dai 6 ai 8 molto beh immagino anche dei gruppi abbastanza brillanti però 6-8 anni in maniera molto lenta dai devi inserire tu chi ha il potere alzi la mano insomma in maniera molto lenta poi vai però ci sta però ci sta come l'idea molto 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 cioè nel senso che ci sta centrale da sviluppare soprattutto sempre un po' con un occhio centrale a quello che è la capacità decisionale interazione e un occhio periferico a quello che è il ritmo dell'allenamento stesso perché sai bisogna come al solito ben sai poi bisogna coinvolgerli farli divertire perché sono poi tra virgolette perdi il soggetto perché non non è coinvolto però è molto bello come lavoro anzi complimenti altre cose ragazzi io volevo fare un'osservazione ciao buongiorno ciao attaccandomi a quello che diceva Sara che diceva il mini basket io ho notato anche che molte delle lezioni che abbiamo visto nei suoi video io mi sono proprio ritrovata negli allenamenti che faccio fare ed è strano nel senso che comunque hai due sport completamente opposti ho ritrovato gli stessi stimoli più o meno ovviamente e quindi niente ve lo so fare questa osservazione ti ricordi hai visto l'altra volta l'altra settimana eh no perché non lo potevo seguire devo ancora vederlo tranquilla tranquilla però nel senso se ti vai a vedere quella della passata settimana ho mostrato come come in in letteratura scientifica la base motoria più ampia permette poi a medio termine una specializzazione degli sport più più puntuale che permette gli atleti di livello diciamo diciamo che gli atleti di elite assoluta incominciano tardivamente la specializzazione però hanno una base di skills motorie di cose apprese precedentemente molto molto larga quindi più diamo stimoli ad ampio spettro quindi per dirti adesso lì nel video io non l'ho messo però faccio prendere a calci la palla per dirti capito cioè che serve nella palla volo prendere a calci la palla niente però dà le distanze dà la capacità di di focalizzarsi sull'applicare la forza e poi logicamente l'intento è quello che nel momento in cui la base è costruita e strutturata in maniera puntuale e precisa quando sarà ora di inserire i fondamentali il corpo sarà più pronto ad apprenderli e stabilizzarli in maniera più rapida e se poi non li stabilizza andrà a fare un altro sport e se farà un altro sport magari avrà la possibilità di performare questa è un po' l'idea comunque se te la vai a vedere poi possiamo anche riprenderla mi dicevi scusa mi ti interrotto no anche in ambito di capacità decisionali ho notato una cosa nel lavoro a coppie che avendo comunque un gruppo molto eterogeneo di persone un po' più avanti un po' più indietro ci sono proprio alcune persone che anche a coppie tendono a collaborare molto di più e trovano delle strategie ancora prima di me che magari avevo proposto il gioco e non ci avevo proprio pensato ed è proprio bello questo comunque che loro ci arrivino e che diano anche spunti a me che guardo e che ho ideato di un gioco ed è sano perché non sono condizionato nel senso che hanno una maniera di ragionare che è diversa dalla nostra abbiamo un'aspettativa e poi in realtà c'è c'è una variabile però questo è assolutamente importante e bello se funziona perché vuol dire che gli stimoli che proponi sono centrali sono giusti li alleni cioè quello è allenante quindi è un ottimo lavoro e sicuramente vedrai che attendere ti porterà le tue soddisfazioni altro ragazzi? io professore scusi volevamo ancora dire una cosa in merito quello che stavo dicendo prima non lo so io cominciando la mia la mia piccola esperienza da allenatore c'è questo pensiero che ho sviluppato cioè che ho maturato io poi magari molto probabilmente mi sbaglio però ho proprio notato che cioè un buon allenatore deve essere in un certo senso flessibile con i ragazzi quindi cioè non soltanto tenendo conto delle fasi sensibili ma anche soprattutto non so per esempio dell'età biologica e quindi vedere se un ragazzo è particolarmente avanti mentalmente piuttosto che indietro e quindi non so anche pianificare un allenamento in relazione alle loro esigenze come dire cognitive ecco sì questo senz'altro questo rimane sempre la componente di tipo artistico di cui parliamo spesso cioè la sensibilità è quello cioè tu allora bisogna avere delle tracce perché se no sono cose a caso cioè se no è come 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 fare le ricette a caso mettendo prima prima la pasta e poi mettere l'acqua c'è una traccia ci deve essere una traccia all'interno di quella traccia il tecnico che si deve districare per applicare al meglio la la traccia stessa quindi la biologica le risorse la capacità anche che che hai in termini di possibilità di poter operare nel senso quanti quanti siete all'allenamento quanto ti puoi dedicare in via individuale a questa persona per dire no e allora logicamente questo diventa diventa centrale logicamente tu hai la responsabilità di tutti però quindi bisogna senz'altro avere flessibilità però altrettanto bisogna avere grande rigore su quelle che sono i target generali perché se no se no purtroppo e bisogna anche saper fare un passo indietro a volte saper fare un passo indietro e dire ragazzi se trovo o mi è successo di avere persone molto talentuose e dirgli guarda sei talmente talentuosa che qui perdi tempo perdi tempo ti indirizzo a qualcosa di più perché? perché qui purtroppo non possiamo sviluppare il tuo talento al 110% e questo è una grande presa di coscienza del tecnico che fa il bene del giovane quello che dici tu altre considerazioni ragazzi professore io sono paola buongiorno volevo farle una domanda più dettagliata riferita al periodo che stiamo vivendo io insieme ad un'altra ragazza alleno un gruppo di bimbe del 2009 di pallavolo e quindi cerchiamo durante gli allenamenti di concentrarci di più sulla parte specifica piuttosto che sullo sviluppo motorio il punto è che adesso diventa difficile faremo due allenamentini in diretta su zoom e il punto è che concentrarsi proprio sulla parte specifica diventa difficile quindi mi chiedevo se lei avesse dei consigli e come sta affrontando questo momento invece lei magari con i suoi gruppi di bambine allora noi stiamo facendo allora devo dirti la verità ci siamo organizzati quando abbiamo analizzato il problema che ci sarebbe ci sarebbe stata la chiusura abbiamo intanto in prima istanza subito lasciato un pallone a ogni bimba quindi la prima cosa che abbiamo fatto come società abbiamo deciso di prendere i palloni che tanto sarebbero stati in magazzino e farli portare a casa dalle bambine prima cosa poi è ovvio che non è assolutamente la stessa cosa e non si può fare allenamento però in questo in questo frangente stiamo cercando di lavorare ancora di più su beh poi tu sei già al margine alto nel senso che 2009 sei già quasi diciamo che incominciate quasi a fare a fare tipo l'under 12 tipo under 13 qualcosina quindi under 12 e under 13 con lo stesso gruppo ecco immagino quindi insomma è normale che la situazione diventa un pochino più più delicata sotto il punto di vista della gestione di tipo tecnico però nella stessa maniera proprio perché esaltare un una cosa di tipo tecnico in questo frangente è impossibile perché comunque loro hanno già un'idea di sport di squadra iniziano a avere già un'idea di stare cosa hanno fatto già il super mini volley qualcosa del genere penso sì 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 hanno fatto il mini volley il punto è che è un gruppo molto variegato nel senso penso come in ogni gruppo squadra a quest'età perché comunque ci sono delle ragazze che sono un po' più indietro delle ragazze che sono già più avanti e diventa difficile andare avanti tralasciando quelle che magari fanno un po' più fatica infatti la cosa la cosa è esattamente in parallelo a quello che che si diceva anche anche prima si fa un passettino indietro tanto si lavora singolarmente quello che nel limite del possibile si preparano magari due tre varianti della stessa esercitazione facciamo cose stupide tipo se tu hai che ne so l'idea di fare che ne so piano di rimbalzo dico così se tu hai la la bambina che è un pochino meno dettata farà il piano di rimbalzo punto fine nel momento in cui invece che la bambina è un pochino più più sveglia per dirti o gli fai fare la costringi ad aumentare le variabili quindi può essere o lavoro con un braccio soltanto o lavoro con due bracci allo stesso tempo faccio degli spostamenti faccio che ne so il giro intorno a una sedia non lo so capito allora il giro lo fai in senso orario lo fai in senso antorario qual è il senso orario metti il sinistro avanti metti il sinistro indietro capito no all'interno della della diciamo della della call ci sarà chi farà fatica a tenere il pallone per aria e va bene così e ci sarà chi invece ha bisogno di essere un pochino più stimolato però eventualmente poi possiamo anche approfondire magari in in separata sede su quelle che potrebbero essere le cose certo che è logico che le variabili sono guarda ti dico quello che facciamo noi cioè prima dell'iniziare la 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 call ci sinceriamo che sia tutto a posto inteso come avete preso ce l'avete un muro dove lo fai la palla contro il muro ce l'ha il muro pronto a disposizione ah no allora la bimba si trova pronti col muro pronti con la sedia in maniera che poi non durante la call devi cercare di tenere l'attenzione più possibile più focalizzata che si può è evidente che non è la stessa cosa però è anche evidente che se smetti di fare pure quello sì 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 infatti è molto più difficile così però appunto questo è quello che si prova a fare sviluppare onestamente sì sì certo per esempio si fanno dei lavori di coordinazione di piedi che possono essere eseguiti singolarmente abbiamo fatto delle cose con le righe per terra del pavimento mettendo lo scotch per terra cose così hai capito lavori di piedini lavori così che così ognuno se lo fa alla velocità che vuole tra virgolette e intanto fai passare un po' di tempo facendo qualcosa di di utile si muovono già il fatto che stiano lì a fare qualcosa che non stiano sul divano è già una vittoria certo è già una vittoria ragazzi farei una cosa devo procedere ancora illustrandomi una parte generale di regolamento se avete poi altre cose specifiche rimango a disposizione o alla fine di questa di questa lezione o poi singolarmente durante la settimana via mail o cosa così va bene così andiamo avanti perché giustamente ci sono anche dei colleghi che procedono e devono devono vedere anche loro le cose specifiche del corso e oggi per quanto riguarda la parte specifica della pallavolo per chi ha una conoscenza della pallavolo non avrà problemi per gli altri magari dovranno stabilizzare un pochino perché fa parte di quello che è la la poi il progetto didattico che dobbiamo comunque portare avanti perché il modulo si chiama volley e quindi qualcosa dobbiamo parlarne al riguardo partiamo da basi proprio basic 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 del regolamento regolamento prevede un campo quadrato 9 metri per 9 metri questo qui è splendido campo disegnato da me questa parte qui è poi la rete che ci divide da un altro un altro campo dove verrà situata la squadra avversaria il campo viene diviso in due macro aree che sono la seconda linea e la prima linea la prima linea è la parte vicino alla rete che ha uno spazio di 3 metri e la seconda linea che ha uno spazio di 6 metri fino a fondo campo il campo è diviso in 6 posizioni che vedete numerate dall'1 al 6 e 1, 6 e 5 quindi sono le posizioni di seconda linea 2, 3, 4 sono le posizioni di prima linea quando la mia squadra conquista un punto effettua attenzione conquista un punto sulla fase di cambio palla quindi dopo un servizio degli avversari la fase del cambio palla e del break point ne abbiamo parlato leggermente in maniera abbastanza sintetica l'altra settimana parlando di servizio quindi quando l'altra squadra serve se io conquisto il punto la mia squadra effettua un giro in senso orario e il giocatore che sta in posto 1 andrà in posto 6 il giocatore di posto 6 posto 5 e così via con il giocatore di posto 2 che arriverà in posto 1 il giocatore di posto 1 e quello deputato a inserire la palla dal servizio come abbiamo visto anche la passata settimana il servizio può essere condotto dietro tutta la lunghezza della linea di fondo campo e ci sono diverse tecniche che non staremo qui a rialencare perché ne abbiamo già viste la passata settimana quindi giro orario posizioni prestabilite il giocatore di posto 1 è quello che quando è il mio turno di servizio va a inserire il pallone nella nella pallavolo di alto livello dove c'è un unico palleggiatore in campo si divide la pallavolo in sei fasi che si chiamano P1 P6 P5 P4 P3 P2 e il nome della fase è dettato dalla posizione del palleggiatore quindi quando il palleggiatore sta in posto 1 si chiama P1 quando il palleggiatore è in posto 6 P6 e così via queste modalità di alto livello sono fatte per permettere un'alta specializzazione dei componenti della squadra che andranno ad operare in una zona specifica del campo in funzione di quelle che sono le loro caratteristiche un'ulteriore divisione sotto il profilo delle fasi di gioco quindi in due la pallavolo si divide in ulteriori due macro-momenti che abbiamo già accennato l'altra settimana che si chiamano cambio palla o side out scusate oppure break point o transition o contraattacco queste due macro-fasi come si differenziano? il cambio palla è il momento in cui la mia squadra riceve il servizio della squadra avversaria quindi non mette il pallone in gioco il break point è quando la mia squadra inserisce il pallone battendo da fondo campo con uno dei suoi componenti sempre sulle regole di base abbiamo quindi sei giocatori più uno questo più uno è un giocatore che si chiama il libero e interviene unicamente a sostituire un giocatore in seconda linea quindi nelle posizioni di posto 1 posto 6 e posto 5 ogni squadra ha tre tocchi a disposizione per organizzare la propria azione e il muro non viene conteggiato inteso come se la squadra avversaria attacca il muro tocca il pallone smorza la traiettoria dell'attaccante io ho ancora tre tocchi a disposizione per organizzare la mia azione per ogni set abbiamo sei sostituzioni a disposizione che però hanno rispetto ad altri sport delle diciamo specifiche diverse intanto rispetto per esempio al calcio dove quando un giocatore viene sostituito non può più rientrare nella pallavolo potrà rientrare anche all'interno dello stesso set però i cambi sono bloccati che cosa si intende facciamo finta che il giocatore in posto uno sia anche il giocatore numero uno e venga sostituito da un giocatore che chiameremo a quindi a entra in campo al posto di uno e questo vale come una sostituzione se se l'allenatore vuole nuovamente ricambiare il giocatore a non potrà sostituirlo con un giocatore b c e via dicendo dovrà rimettere il giocatore numero uno quindi si dice che si chiude il cambio non è possibile cambiare due volte il giocatore inteso come quando inserisco una coppia quella coppia rimane bloccata per quel determinato set fatto questo in questo conteggio di sei sostituzioni conteggiamo come l'entrata del giocatore a su uno nell'esempio precedente e quindi nel momento in cui abbiamo il giocatore a in campo la chiusura del cambio quindi il rientro in campo del titolare della coppia bloccata come un'unica sostituzione quindi possiamo cambiare sei giocatori con due cambi bloccati quindi bloccati inteso con le coppie bloccate il libero viene escluso dal conteggio di questi cambi le gare vengono disputate al meglio dei 5 set dove 4 set sono ai 25 punti e un set breve che si chiama generalmente tie break che finisce a 15 ogni set disputato si chiude ai vantaggi quindi con almeno due punti di scarto se una squadra vince 3 a 0 o 3 a 1 in classifica realizza 3 punti generalmente realizza 3 punti se una squadra vince 3 a 2 quindi al quinto set realizza 2 punti se una squadra perde 3 a 2 realizza 1 punto se perde 3 a 0 o 3 a 1 0 punti per concludere questa carrellata di regole di base principali vediamo quelli che possono essere dei falli comuni abbiamo il fallo di doppio tocco inteso come il giocatore che tratta il pallone non può toccare il pallone in maniera dissincrona o due volte consecutive quindi non deve non può toccare due volte il pallone di fila quindi non può fare due colpi consecutivi e in alcuni frangenti in alcuni fondamentali quale posso essere per esempio il palleggio o anche il bagger su alcuni aspetti per esempio di difesa o ricezione non posso toccare con due parti del corpo dissincrone classico esempio il palleggio quando una mano tocca prima dell'altra e la palla normalmente gira oppure se lavoriamo con il bagger se colpisco la palla sul mio piano di rimbalzo e poi mi colpisce la spalla perché il rimbalzo schizza addosso al corpo non è possibile viene decretato fallo di doppia abbiamo poi un fallo di accompagnata che è determinato da quello che è l'analisi che abbiamo condotto nella nostra prima lezione facciamo uno sport di rimbalzo non possiamo bloccare il pallone quindi se la palla viene gestita in maniera controllata trattenuta da un giocatore con una o due mani viene fischiato questo fallo che è chiamato fallo di accompagnata questi due falli sono due falli di tipo tecnico che valutano l'esecuzione dei vari fondamentali sotto il profilo dell'uscita pronto appunto tecnica quindi valutano la trattazione proprio della qualità del tocco del pallone stesso abbiamo poi un fallo di quattro tocchi quindi se io non riesco a mandare nel campo avversario il pallone entro tre tocchi di squadra l'arbitro interromperà l'azione abbiamo poi dei falli di rotazione inteso come come abbiamo visto precedentemente quando usciamo da una fase di cambio palla la mia squadra dovrà ruotare in senso orario se per qualche motivo sbaglio il giro e nella mia rotazione il giocatore di posto uno una volta effettuata la sua rotazione non si trova in posto sei ad esempio all'inizio dell'azione successiva l'arbitro fischierà un fallo di posizione o rotazione cosa importante i giocatori hanno una loro zona di partenza per ogni azione una volta che il pallone in gioco possono liberamente muoversi all'interno del campo tenendo conto di un'unica limitazione che è il fallo di invasione di in questo caso di linea inteso come se tu sei in posizione posto uno posto sei posto cinque non potrai buttare il pallone nel campo avversario saltando se non prima staccando prima della linea dei tre metri se tu sei in posto uno posto sei posto cinque fai un salto con gli appoggi pestando la riga o in prima linea e butti la palla nell'altro campo il primo arbitro fischierà un fallo di invasione di linea dettata questa limitazione una volta iniziata l'azione ogni giocatore può muoversi liberamente normalmente più facilmente all'interno della stessa linea quindi chi è in seconda linea tende a stare in seconda linea e chi è in prima in prima eccezione fatta per il palleggiatore sulle squadre di alto livello però in generale la limitazione sta nel saltare dentro la linea o pestando la linea dei tre metri altro invasione di altre due invasioni di linea avvengono se in un'azione di servizio condotta con un fondamentale di salto pesto la linea dei tre metri o anche piedi a terra scusate pesto la linea di fondo campo oppure se in un'azione sotto rete metto il piede completamente nel campo avversario abbiamo poi ancora un'invasione di rete che è l'azione in cui il giocatore in qualsiasi frangente durante il gioco tocca la rete con una parte del corpo questo è un affallo di invasione e viene sanzionato l'unico caso in cui il tocco della rete non è sanzionato è normalmente il tocco nelle divisioni femminili con i capelli quindi con le code di cavallo con le trecce nel momento in cui ruotano il capo se cambiando direzione ruotando il capo toccano la rete con i capelli l'unica situazione con cui non viene sanzionato il fallo regole di base queste sono quelle proprio diciamo basilari che proponiamo all'inizio cercheremo poi di fare degli approfondimenti su alcune situazioni ci sono delle domande a riguardo di questa parte qui abbiamo ancora 5 minuti vi metterò a disposizione anche un video che avevo già registrato la passata stagione dove c'è soltanto questa parte dedicata che così se volete soltanto senza dovervi andare a cercare il punto di questa call avrete tutte le parti diciamo di questi falli di base su un altro video che vi condivido sempre su Moodle domande dubbi perplessità i cambi allora situazione giocatore numero uno lascia stare la zona in questo momento il giocatore ha sulla maglia il numero uno viene sostituito dal giocatore A così per comodità lo chiameremo A A è in campo sostituisce il numero uno il primo allenatore può sostituire nuovamente il giocatore A ma soltanto con il giocatore che ha sostituito in precedenza e chiudere il cambio rimettendo il giocatore che era titolare che è partito titolare all'interno del set quindi sostituzione soltanto su coppie bloccate quindi c'è il titolare in campo entra la riserva la riserva può essere sostituita unicamente dal titolare che è stato sostituito in precedenza quando facciamo questi due cambi chiamiamoli due cambi canonici vengono conteggiati come unico cambio e ne abbiamo sei a disposizione quindi posso cambiare i sei titolari con sei riserve ritogliere le sei riserve e rimettere i sei titolari mi sono spiegato Nicol perfetto altro ci sono altre domande ragazzi se non c'è altro vi congederei che siamo arrivati al termine della nostra lezione direi che non c'è altro se ci fossero altre domande che vi sovvengono mentre ci ragionate sopra il lavoro di oggi mi potete tranquillamente scrivere però ne parliamo la prossima settimana ultimo ultimo reminder ricordatevi che dalla prossima settimana vi andate a reperire i diciamo il link di accesso alla call alla suite direttamente sul mio mood quindi non riceverete ulteriori comunicazioni ulteriori mail da me va bene se non c'è altro io vi saluto vi ringrazio e ci aggiorniamo la prossima settimana direi che siamo a posto così buona giornata ragazzi grazie a voi arrivederci buona giornata arrivederci a presto ciao arrivederci ciao 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 ciao